A Roma, dove dopo due anni di restauri ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria dei Cappuccini nella famosissima via Veneto, fatta costruire da Papa Urbano VIII Barberini e considerata una dei gioielli del barocco romano. A suo interno capolavori pittorici come San Michele Arcangelo di Guido Reni, un crocifisso lineo del Cinquecento attribuito ad un disegno di Michelangelo e l'altare maggiore realizzato con i marmi che venivano dismessi dalla fabbrica di San Pietro.